Siamo in compagnia del mister Inversini, allora una vittoria a sua offerta? Sì, c'è molta soddisfazione in casa nostra perché temavamo questa partita, questa squadra, che è una delle più in forma del girone in questo momento, che viene da un 3-0 con la Dellese, che ha messo dentro in organico dei giocatori importanti, che probabilmente farà un girone di ritorno importante a Desenzano. Noi ci siamo ritrovati, era inevitabile avere un calo dopo tutti quei punti fatti all'andata, però veniamo anche noi da quattro vittorie consecutive, abbiamo ripreso a correre e soprattutto a lottare, perché oggi è stata una battaglia, come diceva lei prima, e la battaglia l'abbiamo vinta, e questa è la cosa più bella e più importante per me. Abbiamo visto tutto un giro di andata, secondo lei le squadre più da temere dal vostro punto di vista? Ma allora, per quanto riguarda la classifica, noi guardiamo a noi stessi, pare che anche oggi si sia allungata la forbice di distacco sulle seconde, però noi viviamo giornata per giornata. Io credo, ma non lo dico perché adesso è passata, lo dicevo anche prima, l'ho detto anche ai miei durante la settimana, che Desenzano adesso possa dire la sua, ma in maniera pesante a livello di classifica. E secondo me potrebbe lottare per entrare nei play-offs, se questo dovesse inanellare una serie di vittorie che sicuramente è alla loro portata. Le altre, credo che la classifica si delinei abbastanza chiaramente. Per me Palazzolo è una buona squadra, il Valle Camonico è un ottimo organico, e poi ci sono queste orse chiesa al bese che sono dietro di noi, che però credo che anche oggi si siano staccate un po'. Credo che la lotta per fare i play-off sia molto molto interessante, e fra queste sicuramente ci metto a Desenzano. Grazie, complimenti.